L'amministrazione comunale ha comunicato all'avvio del precedimento di Revoca per la concessione dell'immobile della Casa del Pellegrino, eppure questo è un atto che è fortemente contestato da lei? È fortemente contestato anche perché le basi dalle quali appunto sorge l'atto sono delle basi puramente illegittime, perché si richiama la volontà di una commissione consigliare, la commissione consigliare non ha la possibilità di esprimere un parere a cui si dà seguito con procedimenti d'ufficio, perché questo può avere valenza solo se l'attività della commissione viene portata successivamente in consiglio, in consiglio dovrebbe essere approvata e poi l'amministrazione dovrebbe darne seguito, vuol dire il sindaco e la giunta assieme dare seguito all'ufficio a procedere. Tutto ciò non c'è, non è avvenuto, ma la cosa più grave è che quest'atto, che è un avvio di procedimento, qualora dovesse produrre i suoi effetti, produrrebbe con l'estrema certezza un danno alle casse del comune rilevante. Perché esiste in questo momento un contratto in essere? Se esiste una commissione che deve essere rispettata, qualora la commissione è soggetta a anticipazioni nei tempi previsti, sicuramente la controparte potrà chiedere un risarcimento di danni che andrà a gravare solo ed esclusivamente sulle tasche dei cittadini. La controparte parliamo del santuario, quindi della chiesa? L'ente gestore, che è un ente che ha stipulato un contratto di convenzione, ha anticipato delle somme e che sicuramente ha anticipato queste somme con la certezza che poteva gestire la struttura per un determinato periodo di tempo, così come sta facendo. Somme anticipate per un lavoro di ristrutturazione e riqualificazione della Casa del Pellegrino, più o meno durante la giunta a Fatuzzo? No, con la giunta a Fatuzzo che ricordiamo aveva anche la rappresentanza di soggetti vicini a chi oggi amministra e quindi con la giunta a Fatuzzo si avviò quest'iter che oggi vuole essere interrotto.